Io ho portato una settantina di libri, un po' tutto, un po' di letteratura, un po' di saggistica, ma sono tutti libri che abbiamo letto e che ci sono piaciuti e che ci siamo sentiti di consigliare anche agli altri. A saluti io, frazione del comune di Castelfo Cognano in provincia di Arezzo, è arrivata alla Bibliocabina. Si tratta di una vera e propria cabina telefonica allestita come una biblioteca in miniatura. Si rifà un po' all'idea del book crossing che è nato in America, anche se già da un discepolo di Aristotele, un certo Teofasto, veniva presa l'abitudine di lasciare dei messaggi dentro le bottiglie. Noi abbiamo inteso di creare questa Bibliocabina per incentivare quella che è la conoscenza tramandata attraverso la lettura dei libri. Chiunque può lasciare dunque la copia di un volume che ha già letto e metterlo così a disposizione di altri lettori. Questo qui è un posto che fa mecciare, fa incontrare chi prende e chi porta, quindi è un luogo anche di incontro. La Bibliocabina si trova nel centro del piccolo paese del Casentino, nel giardino delle ex scuole elementari. Torniamo con la cultura che poi abbiamo un po' perso. Io mi piace spesso pensare che il libro va letto toccando la carta, guardando, ammirando l'inchiostro, perché è lì che sogniamo. Un libro di fatto è fatto del materiale con cui sono fatti i sogni, che uno abbia 10 anni, uno abbia 70, deve sognare per poter andare avanti.